È destinato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini, quasi 5 milioni e mezzo di persone in tutta Italia, il bonus trasporti da 60 euro per il quale si è aperto questa mattina il Click Day. Un'opportunità per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per il quale il governo ha stanziato 100 milioni di euro e che ritorna rifinanziato dopo la prima introduzione nel decreto aiuti del 2022 con una novità. La soglia economica di accesso si è notevolmente abbassata, passando da un tetto massimo di reddito complessivo di 35 mila euro a 20 mila euro. Per fare richiesta è necessario lo SPID o la carta di identità elettronica. Basta collegarsi alla piattaforma elettronica bonustrasporti.lavoro.gov.it e autocertificare, spuntando una casella, di essere al di sotto della soglia dei 20 mila euro di reddito nel 2022. Non è necessario quindi essere in possesso dell'Isee. Ogni singolo accesso può presentare una sola domanda per sé o per un minore a carico, dunque per richiedere più bonus è necessario accedere più volte. Il buono è nominativo ed è valido per l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario della rete nazionale.